oggi siamo qui per vedere se vale o meno la pena acquistare il pack fondatore e il pack iniziale di Apex Legends in questo caso per playstation 4 due pack sono presenti sullo store adesso procederemo all'acquisto dopo di che insieme andremo a vedere contenuti due pack e andremo a procedere ad aprire casse Apex per tutte le monete che abbiamo disponibili ok abbiamo proceduto all'acquisto e adesso via con Apex vediamo cosa succede vediamo un pochettino se sono soldi spesi male oppure ok grazie per aver acquistato il pack iniziale allora il pack iniziale da al prezzo di 5 euro 600 punti Apex 600 monete Apex un emblema speciale che dovrebbe essere quel pesciolotto quel piragna beige e poi c'è una skin per r45 perfetto o ecco quel pack fondatore allora il pack fondatore abbiamo una skin per bloodhound una per gb l'estero e l'altra per bright tutte con motivi che sembrano maore si decorativa florale e non dimenticare la skin per erlo ecco andiamo a vedere questa io andrei subito a vedere le skin del pack fondatore ok una skin rossa poi un banner marchio del fondatore perfetto rosso che equipaggio subito la skin abbiamo detto che era fondatore e andiamo a appoggiare così andiamo poi a vederle alla fine a sfondo rosso e il banner sarà lo stesso penso che si a e te la mette sopra la tua carta in poche parole giusto va bene bellissimo questo questo è la stessa cosa c'è per bright che abbiamo la skin del fondatore sempre rossa sempre rossa e il banner del fondatore che per nulla al mondo cambierei col ballo anche ora così e quindi abbiamo visto le cose e ora andiamo a vedere all'alberia andiamo con la parte del fondatore l'r e 45 con una dissolvenza blu questa è la pistola del pack e adesso il fucile d'assalto preparati perché quest'emlock è qualcosa di spettacolare di spettacolare questo è qualcosa di spettacolare l'angelo davanti nero normalmente c'erano l'angelo era bianco vedi invece in questa versione è molto molto più scura è perfetto e ora procediamo per quello che riguarda la compra di qualche pack apex bene 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 ragazzi abbiamo provveduto a comprare l'equivalente di 2400 monete apex in pack apex quindi adesso procediamo all'apertura veloce di 24 pack apex e che c'è la maniera buona io finchè non vedo qualcosa di giallo non mi pronuncio bella skin però eccolo eccolo ok non è andata a buon fine una skin e fa sempre piacere uno skin questa è quella buona questa è quella buona questa è quella buona lo sapeva lo sapevo no 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 proviamo a unire le forze una pose banner vedi la prossima ce la facciamo vai 3 2 1 oh 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 eeehh una schiena epica bella bella è bella vai andiamo avanti è almeno due azzurre azzurre due azzurre bella 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 è una frase della mia bimba bella e avanti questa la facciamo riposare cosa facciamo riposare però un'altra skin biscotto mi sta riempendo di skin sua totalmente pò di spagna non volevo il biscotto di spagna wow che bella wow e amanti purea purea pare bella no niente purea la prossima è un'altra mamma mia grande c'è ormai c'è tutte le skin di lasagna era vegetariano era vegetariano però per far vedere che non diciamo bugie in questo nemmo le forze ok guardate 3 2 1 che stavamo a fare chi non ci può credere a questo ragazzi wow bangalore bene decente e adesso perché sono ingordo infatti riuniamo subito le forze di nuovo ok per una leggendaria prendere il viso si è insomma il tono adesso è il momento musica allora io ho risposto io ho risposto io ho risposto io ho risposto ok sei pronta questa l'attiva so tu ok vai 3 2 2, 1, Shubuuu. Cosa vuoi dire? Shubuuu. Ho visto? Ciambolo funziona sempre. Era sciambolo. Ma no. Dimmi che costa un 400. 200. No. 9. Dai, vado io, eh. Vado io, eh. Vai. Ikezoo. Ho visto? Ikezoo. Dobbino esplodere, però. Mamma mia, come se non ci fosse domani per quell'arma. Sì. Vai. Tu ha. Uuuh. Che cazzo è? Si sta cagando al coso, raga. No, state tranquilli. Metalli di creazione. Quanti? 30. 30. Un pugno nello stomaco. Eh. Siamo pronti? Vai. Tu. 3, 2, 1. Let's get ready to rumble. Ho provato un americano, niente. No, no. Niente, mi fa cacare, vai. Vai, vai, vai. Però un'arma, su. Vai. Yeah, mi hai fatto perdere un... Al tre, andiamoci, eh. È la fase di lei. Al tre, andiamoci. Dai. Uno. Due. Tre. Uuuuh. Uuuuh. Quasi, vedi? Non ci abbiamo creduto. Oddio. Credo che non ho più cola. Questo è quello serio. Facciamo parlo a lui. No, niente. Poca roba leggendaria. Veramente poca roba leggendaria. Tanta rara. Però questo, ragazzi, siamo pronti per gli ultimi tre. Ci sarà il coltello. Tre. Due. Uno. Eccolo. Per voi. Ci credevate, eh. Tre bianchi, mi ha dato. Tre fior di latte. Ultimi due. Pac. Tre. Due. Uno. Eccolo. Tre rari. E' raro, eh, però. Raro, è raro. Ah, come se non... Come se non avessi skin. No, è la prima volta che mi dà la skin. L'era che ti apro. Io l'ultimo. Andiamo. Uuuuh. Ma fai finta di urlare? Eccolo. Oddio. Lo sapevo. Non volevi leggendarie? Wow. Cos'è? È bellissima. Ma metalli leggendari? Non l'avevo visto mai. Seicento. Bello, bello. Ok, adesso ho bisogno di acqua, però. E' a posto. Bello, ragazzi. Eh... Questo è stato tutto. Tutto è stato questo. Mi raccomando, lasciate un bel like. Vediamo quanti di voi sono rimasti fino alla fine del video ad ascoltare le nostre cazzate. Quindi hashtag cazzate per chi è rimasto fino alla fine. Però non avete visto mai due persone così convinte come noi. Brava, brava, brava. L'importante è crederci. Crederci è importante. Come dice quel vecchio youtuber, anche questo video termina qui. Andate tutti in ARR. E che il verbo del bye bye sia sempre, sempre, sempre con voi. ARR.